Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Ecco la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Badia e V1 Variante in direzione nord. Sempre verso Bologna, rallentamenti per traffico tra Calenzano e V1 Variante. In A11 rallentamenti e code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola e tra Pistoia e il Bivio con l'A1, il tutto verso Firenze. In Fibili per lavori, 5 km di coda tra Montopoli e Ponte d'Era Ovest in direzione mare, verso il capoluogo, rallentamenti tra Ginestra e Firenze e Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti verso Livorno, tra San Miniato e Santa Croce, tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da S.G.C. Firenze e Livorno. Per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidenti segnalati in via Corridoni e in via Hamilton. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!